Ciao ragazze Eccoci qua con un nuovo video Oggi siamo qua per fare un video sui regali di Natale Che potete fare, vogliamo dare delle idee regalo molto economiche Ma soprattutto molto originali e molto belle Fateci sapere voi nei commenti se avete già fatto i vostri regali o cosa regalerete Speriamo di esservi utili insomma Allora Diamo una mano con i regali Regali per Natalizzi Ragazzi il primo regalo che vi voglio consigliare assolutamente È questo qua di Daniel Wellington Ed è un regalo che ho fatto a mia sorella Quindi lo vedrai in anteprima Ed è praticamente un bellissimo cofanetto Che contiene al suo interno Vi faccio vedere, lo so, prendo male perché è finta la scala E lo so anche Comunque è bellissimo Perché praticamente ho un cofanetto Loro hanno fatto queste idee Regalo già confezionate sul loro sito Daniel Wellington E io ho preso questo qua per mia sorella Che contiene un orologio in argento Con un cinturino bellissimo e super elegante E il bracciale abbinato Praticamente sono anche scontati E inoltre se usate il mio codice sconto Carità dolce 15 Avrete il 15% di sconto Quindi per i vostri regali E io ve li consiglio Perché gli orologi Daniel Wellington sono bellissimi Poi questo qua Secondo me a mia sorella può piacere Perché è fine e semplice Come piace a lei E fa vedere quello da uomo Ovviamente Ve lo straconsigliamo anche da uomo Fa vedere com'è bella la confezione È bellissima E anche da uomo Daniel Wellington sul sito Ha tanti orologi e tante cose bellissime Questo è stupendo Fallo vedere Questo è più bello È bellissimo Praticamente l'ho scelto io per Dario E secondo me è proprio bello Il di cuoio è bellissimo Vero? Bellissimo È un bel regalo Grazie Grazie Ecco Ma c'è stato di amici No sed Certo che tu Te l'ho regalato a te E ho fatto i miei regali Per Nancy e Dario Su Daniel Wellington Quindi vi consiglio di approfittare Il codice sconto Carità dolce 15 E vi lascio nel box informazione I link Degli orologi e dei modelli Che ho scelto io E vi lascerò il link Di tutti i prodotti Che vi faccio vedere In questo video Sul sito ci sono tanti modelli Andateli a vedere Sono bellissimi Ok Continuiamo Questo è mio Mettiamolo da parte Tu te lo prendi Vai Ladra Altro regalo Altro regalo che vi vogliamo consigliare Sono questi bellissimi cofanetti Dei provenzali Che sono a mio avviso Proprio carini Per le idee regalo di Natale Questo qua Ce ne sono di 4-5 tipi Questo è un box Che contiene Acqua micellare di rosa E crema viso Il tuo invece cosa contiene Amore Rimodellante naturale Perché tu devi un po' dimagrire Così Dopo Natale Esatto Talasso scrub E fango corpo E sono veramente Delle idee carine Adesso uno lo apriamo Così vi facciamo vedere Come è simpatico Per la persona Che lo riceverà Che vedete Contiene Al suo interno Ad esempio Questo contiene Sia la crema viso Alla rosa Che tra l'altro è ottima Con l'acqua micellare Alla rosa E quindi è molto carina La confezione E costano pochissimo Intorno ai 12 euro Se non erro Ragazzi Già so che me lo chiederete Prima di procedere Agli altri regali Vi voglio dire Questa maglia Che è bellissima Verena Secondo me È di Natale È una bella idea Anche questa per regalo È una felpa Che non si sa Se è una felpa o pigiama L'ho presa da H&M Secondo me è molto carina È il rossetto rosso Che secondo me È un must have per Natale È anche un'idea regalo È questo qua Ve lo faccio vedere È Rouge Mon Amour Di Nabla Che lo potete trovare Pure sul sito del Caritas Shop Come tutti i prodotti di Nabla Rosso molto natalizio Ed è il mio rossetto rosso Preferito in assoluto Che è tornato disponibile Da pochissimo Perché era andato Fuori produzione Quindi straconsigliato Questo rosso Continuando Vi volevamo far vedere Qualche dia regalo Che noi proponiamo Nel Caritas Shop No? Sia quando venite al negozio Però ovviamente Li potete comprare Pure sul nostro sito www.caritasshop.com E noi va bene La busta Poi ad esempio Si può fare una confezione Ne abbiamo queste confezioni Bellissime di maternatura Sono molto naturali E belle Poi va bene Abbiamo varie Statole e cose Però L'idea è questa qua Da uomo Falla vedere tu amore Da uomo Da uomo Questi prodotti Da uomo Esatto Della linea Top Man Di maternatura Che ho inserito pure Nel mio shop online Perché Dopo che Dario L'ha provata Anche io l'ho provata Abbiamo deciso Che è veramente buona E comprende Un balsamo A barbe e capelli Crema viso Crema viso Il bagno E shampoo Sono tre prodotti Secondo me Messi nella scatola O comunque Una busta Fa una bella figura E ve li sconsigliamo E pure contento Ti lo regalo Si è certo Ai vostri fidanzati O mariti Si Poi facciamo Uno donna E uno uomo Ok Per quanto riguarda donna Secondo me Vi voglio dare un'idea Per un regalo Più impersonale E poi dopo Più impersonale Cioè impersonale Magari che non sapete I gusti Si Perché magari Non sapete Non vi volete sbilanciare Secondo queste due cose Allora Questa è una candela profumata Che noi adoriamo tantissimo Ovviamente Tutti questi prodotti Li trovate Nel nostro shop online Vero amore? www.caritashop.com E vi mette Nel box informazione Tutti i link dei prodotti Allora Le candele profumate Ci sono di vario tipo Questa qua Vi faccio vedere Ambre e il gersomino E praticamente viene così Si è bella proprio Anche la confezione È bellissima Questa qua di apiario Noi le adoriamo tutti E c'è anche Vaniglie e mandorla Ci sono vari gusti Non è solo questo Ci sono tanti Sono tutte bellissime Sì ne trovate tante Sono tutte bellissime Che vuoi tu pupi E poi sempre come in personale Secondo me Quest'amore può essere Una buona idea Regalo Praticamente sono Delle bombe da bagno C'è una confezione Con delle bombe da bagno E sali da bagno È molto carina Perché poi Sono tutti completamente Fatti a mano Naturali Secondo me è carina Come idea regalo Sì anche perché Dura nel tempo Ogni volta ti fai in bagno E consumi Mezza di questa Una Mezza bomba Insomma è un regalo Che ti dura molto Ed è molto carino Poi è super profumato Cioè Vi giuro Hanno dei profumi Bellissimi Mi giuro Belli belli Veramente Anche la versione piccolina Però ha sempre Vari gusti Sì Questa è una vera bomba Quella è una mezza bomba Questa è sempre Una bomba da bagno Che appunto abbiamo noi Sì In vari gusti Questa è quella La vaniglia se non erro Vaniglia Orange Vaniglia Ice Arancia Sì Arancia e vaniglia E c'è vari gusti Comunque c'è il sito E poi Sempre di Nakomi Che è questa marca Che io adoro Guardate Perché trovate Diverse tipologie di prodotti Ad esempio Questo è un burro corpo Alla fragola Strawberry Guana Padding Vabbè Comunque È un burro No vabbè Ve lo devo far vedere È un burro corpo Che sembra tipo yogurt Io questo qua Sto usando i campioncini Madonna È troppo buono Ragazzi Queste creme E questi burro corpo Fate delle figure Favolose Se le regalate E quanto riguarda Datti due regali Un po' più personali Fai vedere Prima il tuo da uomo Questo è un bel profumo Da uomo Da regalare subito Ai vostri fidanzati O mariti E questo è il regalo Che David Ha avuto regalato Da Nancy Infatti va sempre a ruba Perché è bellissimo Un profumo Veramente bellissimo Ha una profumazione Bella maschile Però non troppo forte Piace a tutti Quindi fate una bellissima figura Poi è molto bello Anche il pack E questi profumi Sono di Alchemilla Questo è Black Light Ci sono in quattro profumazioni Guardate comunque Su Caritashop.com Sono bellissimi E poi un altro regalo Che vi consiglio ragazzi A voi Che mi chiedete sempre I consigli per brufoli e punti neri Ma anche per chi ha le macchie Per chi vuole migliorare L'aspetto del viso Fatevi regalare O autoregalatevi Che è anche importante Questa confezione Regalo Che è molto carina E dentro c'ha Una crema Uno stick anti imperfezioni E un gel detergente Quindi una routine completa Da utilizzare Che vi assicuro Sono prodotti ottimi Che eliminano i brufoli e i punti neri Davvero E questo box Così lo trovate appunto Su Caritashop.com Strà consiglio Un regalo utile Il top Grazie ho preparato per voi Altre confezioni Che ho preparato io Già fatte Che poi potete comporre voi Allora secondo me Questo è un set carino Per capelli sfibrati Deboli Per ravvivare i capelli Ed è Lo shampoo c'è del fiducchio D'archemilla Che io lo adoro Col balsamo abbinato E la maschera al mirtillo Che è buonissima E super profumata E sono regali Che chi riceve Sicuro rimane contenta Perché sono prodotti buonissimi Tu invece cosa hai scelto amore Fai vedere Olio di Argan Questo qua Che è bellissimo Secondo me è una bella idea Un olio vegetale Perché comunque Può utilizzarlo Per qualsiasi cosa Per il corpo Per il viso Per i capelli Ed è naturale E biologico E questa è una bella Maschera al viso Abbinata La maschera al viso Secondo me Questa è una bella idea Perché Io ho pensato Una maschera al viso E poi dopo magari Applichi un olio Per revitalizzare la pelle Quindi può essere Un'idea regalo Anche ad esempio Per una mamma O per una sorella Per un'amica Insomma Un ottimo regalo Perché comunque Chi è che non usa L'olio di Argan È una maschera al viso Rigenerante Tutti quanti Chi è Che bei regali Altri regali Che abbiamo scelto Fa vedere prima tu Questa è una crema corpo Di Alchemilla È bellissima Che poi odora Proprio Bellissimo Allora praticamente C'è questa profumazione Epnosi E poi c'è un'altra senso Sono tutte e due Bellissime E sono le creme corpo E' veramente Più profumate Belle Che esistono E la cosa bella È che la profumazione Sia per uomo Che per donna Sono stupende Poi la cosa che a me piace È un bel barattolone Di crema Che dura tantissimo Ti idrata la pelle Te la rende morbida E liscia Quindi ve le straconsiglio Già si sente da qua Il profumo Secondo me Queste sono proprio belle Come dei regalo Poi vabbè Ci potete abbinare O solo questa O ci mettete anche Un bagno schiuma Secondo me Perché comunque Ah mi sono dimenticata Di dirlo Perché c'è anche Il bagno schiuma Abbinato Della stessa fragranza Quindi potete anche Fare il bagno schiuma E crema Ipnosi O bagno schiuma E crema Sensual E fate un regalo Più sostanzioso Dopo il regalo Poi per quanto riguarda Il make up Io ho scelto Secondo me Come idea regalo Vabbè Il rossettino Ve l'ho fatto vedere prima Poi questo qua Un regalo molto economico Perché questa è una palettina Che dentro si mettono Dei trucchi Questa è di Alchemilla È troppo carina E dentro Io l'ho composta Io vabbè Questa è la mia Però ve la faccio vedere La palettina Ognuna c'ha una frase Sono vari tipi Se vedete sul sito Questa dice Non piangere Mai per un uomo Ti si sbava il trucco Bellissima Questa è bella Semplicemente amo La mia Colors Palette E dentro ci mettete Quattro ombrettini Quindi vi viene a fare pochissimo Questi sono ombrettini magnetici Che si staccano E se voi scegliete Quattro ombretti E la palettina Avete fatto Poi la componete voi E la regalate Secondo me Una bellissima idea Regalo Anche perché La palettina di fuori Per esempio Costa 4 euro Costa pochissimo Quattro ombrettini Io scelto Questi quattro colori Perché secondo me Sono molto belli E posso fare Dei trucchi nude Mi piacciono Sul marroncino Però potete mettere Quelli che volete E poi Sì Sempre di trucco I preferiti Di Dario Che sono Le nuove Tinte Nabla Sono stupende Ne vendiamo tantissime Questa è l'edizione natalizia Quindi è un regalo di Natale Ottimo Io ve le straconsiglio Soprattutto questi qua Questi sono i lip kit Che dentro c'è la tinta E la matita labbra Ed è una figata pazzesca Perché viene messa benissimo Questa è Grace Che è una delle mie preferite Ma anche closer Ce ne sono tanti Sono tutte stupende Poi ci sono le tinte Che praticamente Sono Vengono così E sono natalizie Costano anche poco 18 euro Quindi comunque Mi sono scappucciata Questa 18,90 E il lip kit Oh mio Dio No l'avevo messo fuori Ok Questo Allora il lip kit Viene 18,90 E la tinta Semplice 14,90 Quindi costano poco Sì E secondo me anche L'eyeliner Questo è l'eyeliner Natalizio Che lo fanno sempre In tre colori Sì Anche una bella idea Regalo Poi se volete fare un regalo Più spazioso Tutti e tre Secondo me Sono bellissimi Comunque Guardate nel box info Che vi lascio tutti i link Su Calita Shop Per trovare questi prodotti Ma è molto semplice Il sito è molto facile Da navigare Poi Un'altra cosa Che vogliamo far vedere Perché abbiamo fatto Un po' di shopping Facciamo vedere Allora Secondo me Da H.M Io ho trovato questo Che secondo me Come idea Regalo di Natale È carino Ma anche auto Io mi sono fatta un autoregalo Autoregalo Sì Allora mi sono presa Sto pigiamino Che è troppo carino Di H&M Di Topolino Di Natale Assieme a questa felpa Avete detto Un pigiamo anche questo E questo Ti piace amore Avevo scelto assieme È troppo bello A parte che il Natale È bello Sì È bello Non vedo l'ora di metterlo Vabbè Oltre che pigiama Si può usare Anche come tuta Secondo me No come tuta no Perché tuta per la casa Ah per la casa Non per uscirci Con Topolino E palestra E ragazzi Fai vedere tu Che cosa Allora Per Natale cosa si regala Sempre sharp Cappello Pigiamino Secondo me Questo è bellissimo Questo è bianco Questo poi è bellissimo È molto bello Fai vedere come ti sta Sì Poi a me sembra Che sia scritto Merry Christmas No È bello Però anche quell'altro È bello Vi ne ha presi due Di cappelli Ho preso uno bianco Della minima Se l'ha auto regalato Però come idea regalo Secondo me è bella Poi ho preso quest'altro qua nero Molto bello B-boy B-boy Anche molto bello Fa vedere come ti sta Poi sono di lana Sono ben di caldi Sì carolina Ti stanno bene Brava amore Grazie A me il cappello di paparata Alla fine finiamo sempre Che tu c'hai il tossetto Vabbè E poi ragazzi C'è un'altra sciccheria Qual è? Che arriverà Carlita e shop Guardate qua Fa vedere come va Questo è bello Dove si accende? Accendiamolo Dove si accende? Dove è accendo? Vedrò qua Ecco qua Vai Non è vero Scherzato Aspetta Aspetta Non ce l'ha fatto vedere Volevo si accendere Ah sì sì Sono giù Ecco Io io Ecco Il Natale è arrivato Qui da noi Fanno sentire C'è un'altra scuola E' 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 un'altra scuola Jingle Bell Jingle Bell Jingle One Due Questo vi porto i regali Porta fortuna Fatelo tutti quanti Ragazzi avete visto che carino? Vabbè adesso spegniti Praticamente Questo l'abbiamo comprato a Napoli A San Gregorio Armeno E lo metteremo nel nostro negozio A Caritas Shop Sulla Sulla cassa Sul bancone Quindi questo è tutto ragazzi Noi speriamo di avervi dato dei buoni consigli Ma soprattutto di avervi trasmesso un po' di allegria E fatto compagnia con questo video Vi mandiamo un bacio grandissimo io e Dario E ci vediamo al prossimo video Ciao Buon Natale Merry Christmas Happy New Year Vi aspettiamo su www.caritasshop.com Nei pacchi metteremo anche i cioccolatini Ciao 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 Ciao